Lotto 275, Fillia, Luigi Colombo Fillia, più pesante dell'area è il titolo, del 1933-34, le dimensioni sono 50x35, è pubblicato sul catalogo generale delle opere di Fillia, la base d'asta è 15.000 euro. Lotto 285, Ottone Rosai, Via Toscanella, 1956-57 la data, 70x45 le dimensioni, olio su masonite, opera firmata in basso a destra, autentica su fotografia di Luigi Cavallo, è stato esposto nel 1957 ad una mossa monografica di Ottone Rosai presso la Galleria Russo di Roma, base d'asta 18.000 euro, per uno dei maestri del 900 italiano. Chiamate immediatamente e fate un'offerta per questo importante quadro di Ottone Rosai. Lotto 284, Takanori Ogis, Rue Boregard, 1955, 67x53, olio su tela, opera firmata in basso a destra, autentica dell'artista su fotografia. Quest'opera, se lo desiderate, potrà essere inserita sul catalogo generale delle opere di Ogis, base d'asta 20.000 euro.